Siamo all'elementare Sandro Pertini di Subbiano, alle mie spalle vedete una zona della scuola ancora interdetta alle lezioni. La scuola, nonostante sia di recente costruzione, inaugurata due anni fa, ha presentato problemi di infiltrazioni di acqua dal soffitto. Circa 100 bambini che la frequentano, il comune, visti i problemi, si è mosso con la ditta titolare dell'appalto. Il soffitto interessato dalle infiltrazioni è stato rimosso e alcune classi sono state spostate in palestra. Tutte infiltrazioni che erano state monitorate dall'ufficio tecnico, quindi sempre tenute sotto controllo, che non hanno mai recato pericolosità né ai bambini né al personale scolastico né tantomeno a chi comunque aveva accesso alla struttura scolastica. Lunedì, il giorno di intervento, il giorno di intervento concordato con la ditta, è successo che hanno avviato i lavori e nel martedì pomeriggio, rimuovendo una parte di copertura del tetto, sono stati sorpresi da una forte pioggia e quindi le infiltrazioni sono state copiose rispetto alla situazione esistente. Quindi questo ha cagionato un danneggiamento più consistente. A seguito di queste forti infiltrazioni abbiamo valutato con la dirigente scolastica, con l'ufficio tecnico, di spostare i bambini in altri ambienti scolastici. Già da domani la maggior parte degli alunni tornerà nelle loro aule, ma una parte dei luoghi comuni sarà interdetta e altre classi, che si trovano al piano superiore, non potranno rientrare. Le classi seconde all'interno degli ambienti della mensa scolastica sono due classi non molto numerose, quindi con la dirigente è stato valutato essere le classi meno in sofferenza e una quinta che si trova appunto nella zona cosiddetta castello del plesso scolastico. Quando pensate più o meno che questi lavori di ripristino della copertura possano terminare? Allora, va fatta questa verifica, verrà fatta domani o massimo mercoledì. Noi si confida di poter riuscire prima possibile a fare tutti gli interventi. Non so se questo disagio si potrà risolvere nella giornata di martedì 5 novembre, e comunque non andremo certamente per le lunghe perché è un disagio a cui dobbiamo chiaramente dare una risposta immediata.